È veramente proprio uno di quei casi dove una storia si trasforma in leggenda metropolitana e la realtà supera la fantasia. La cosa bella dell'universale è che qualcosa succedeva. Una sera non era mai uguale all'altro. Tutti potevano dire quello che volevano. Potevano fare quello che volevano. Era il cinema della gente che voleva ciò che non trovava ancora. Era la scoperta di un cinema diverso. Un centro sociale misto a un coffee shop, misto a un laboratorio anche. Rifletteva il caos che era la città in quel periodo. C'era un modo di accompagnare la proiezione rispetto a quelli che erano i nostri ideali. E accesero le luci tutta un tratto e si erano tutti circondati da accelerare. C'erano sempre più incommuoventi. Uscivi sempre con gli occhi rossi. Si trovavano delle cose ottime a prezzi bassi. Gendino, se mi devo spinnellare ve ne ho provato a me e mi ha il tuo suddice io. Era un cinema stupevacente. Durante la scena del film L'Ultimo Tango è stato gridato il famoso a burracciuga almeno. Questo era un Vespa, c'erano tutte le sgommatine. Questa Vespa all'interno c'era gente alla casa. L'hanno portato dentro i piccioni, raudi, tischioni. E' inimmaginabile pensare oggi a fare una cosa del genere e essere accolti da un applauso. Non era solo far casino, era nel casino amare il cinema.